Più realistico, più dinamico e visivamente spettacolare. Disponibile dal 27 ottobre 2023, EA Sports UFC 5 punta su questi aspetti per migliorare l'esperienza offerta dal suo predecessore uscito ormai tre anni fa. Un obiettivo che ha spinto gli sviluppatori ad abbandonare l'approccio cross-gen e ad adottare quindi il motore Frostbite nel tentativo di spingere a tutta birra sul piano tecnico. Ma sarà filato tutto liscio? Beh, indossate i guantoni e preparatevi a salire sull'ottagono con noi. È il momento di scoprire il verdetto dei giudici. Sul fronte del gameplay, complice anche un'attesa superiore alla media per la sua uscita dopo l'episodio precedente, in EA Sports UFC 5 troviamo diversi elementi inediti. Si tratta di aspetti che si concentrano anche sulla resa visiva dell'esperienza, anch'essa funzionale a ciò che accade all'interno dell'ottagono. Gli sviluppatori hanno infatti lavorato tantissimo sulle animazioni accompagnate da una maggiore quantità di sangue e da una rappresentazione più dettagliata e realistica delle ferite che è possibile procurarsi, dalle tumefazioni alle lacerazioni. Un fattore questo che ha delle concrete ripercussioni durante il match. A seconda della parte del corpo danneggiata, potremo infatti avere problemi a muoverci, a difenderci e ad affondare i colpi, e con interi aspetti della nostra strategia che risulteranno così compromessi. Sempre poi che non intervenga il medico della federazione, che di fronte a ferite giudicate troppo gravi, potrebbe anche decidere di far sospendere l'incontro. Un elemento tutto sommato naturale per uno sport di combattimento si trasforma così in una meccanica di gameplay, sebbene l'intervento del medico e l'annuncio di sospensione del match, appunto, si verifichino abbastanza di rado. Ben diverso è invece il discorso relativo agli atterramenti e ai clinci ad altre situazioni simili. Il team ha infatti completamente ridisegnato queste circostanze, semplificandole e rendendole più dinamiche, così da evitare tempi morti e macchinosità. Basta infatti agire sullo stick analogico destro e sui dorsali per cambiare posizione dopo un takedown e puntare magari a una sottomissione. Sia chiaro la sensazione di un divario fra l'azione in piedi e quella al tappeto è ancora evidente, e allo stesso modo ci sono situazioni in cui si rimane a terra più di quanto si desideri nel tentativo di sfuggire alla presa del nostro avversario. Tuttavia i miglioramenti rispetto al passato sono concreti, e con un po' di pratica è possibile padroneggiare bene anche questi meccanismi. Per il resto il combattimento in piedi vanta una buona resa degli impatti, e pur non essendo dinamico e veloce come avremmo voluto, regala comunque parecchie soddisfazioni. Dal punto di vista dei contenuti, invece, la parola d'ordine sembra essere conservazione, al netto ovviamente di qualche spunto inedito, come ad esempio la carriera online. E si tratta di una novità più che benvenuta che aggiunge spessore e progressione ad una modalità spesso confinata ai singoli incontri multiplayer, peccato solo per il frequente lag. Tra le aggiunte rientra anche l'opzione Incontri sul contratto, che corrisponde al classico Match Day di FIFA, con le sue corrispondenze agli eventi reali che vengono trasformati in opportunità di incontro, e mettendo così a disposizione atleti differenti sulla base dei loro effettivi impegni all'interno della federazione. Combattiora rappresenta invece la partita veloce, un match affrontabile contro la CPU o un avversario umano in multiplayer locale, scegliendo due atleti dall'ampia rosa disponibile, l'arena e il contesto. Inoltre non mancano varie opzioni per la creazione di un evento o di un combattente. E quest'ultima possibilità è legata anche alla modalità carriera, che rappresenta il fulcro dell'esperienza e che ci vedrà anche stavolta partire dal basso nei panni di un lottatore sconosciuto che viene notato sui social durante un incontro clandestino, e a cui è concessa la possibilità di combattere in maniera professionale. Certo, sebbene siano inflazionati, i presupposti della carriera sono ancora in grado di esercitare un certo fascino, e la progressione legata a questa modalità rappresenta un'ottima maniera per apprendere le meccaniche del sistema di combattimento e le sue tantissime sfaccettature. Il problema risiede più che altro nella ripetitività delle varie fasi. Si firma un contratto, si accetta una sfida, ci si prepara per settimane fra allenamenti, studio dell'avversario, sparring e promozioni, si affronta il match e poi si utilizzano i punti esperienza per il potenziamento del personaggio. E poi? Poi si riparte da capo. L'abbandono dell'approccio cross-gen e il passaggio al motore grafico Frostbite sono decisioni che il team di sviluppo ha preso per poter proporre un'esperienza visiva all'avanguardia. E in fin dei conti il contesto lo consente. Al centro della scena ci sono infatti soltanto due personaggi, ed è su di essi che vengono concentrate tutte le risorse. Come già accennato, le animazioni sono state aumentate rispetto al passato ed è nei vari raccordi tra di esse che è possibile percepire il grande lavoro degli sviluppatori, ovvero quando gli arti si intrecciano e un colpo non va a segno perché trova nel corpo stesso dell'avversario un ostacolo. E tutto questo senza neppure una compenetrazione poligonale. Niente da dire se non shuttle. Sul piano della regia poi i replay cinematografici sono impressionanti, mentre in termini puramente tecnici molto dipende dalle luci e dalle condizioni fisiche dei lottatori sulla cui pelle scorre sangue e sudore, entrambi gestiti da una fisica realistica che prevede anche il trasferimento di gocce da un corpo all'altro. Inoltre le entrate in scena dei combattenti e il pubblico sono davvero spettacolari, ma bisogna ammettere che in frangenti simili il framerate accusa qualche colpo di troppo e scende sotto i 60 fps che sono soliti accompagnare l'azione durante il match vero e proprio. Poco da dire invece sul comparto audio. La telecronaca in inglese è di discreta fattura così come lo è la colonna sonora, ma non sono presenti acuti capaci di far gridare al miracolo. Pur senza grandissime novità, EA Sports UFC 5 non mancherà di entusiasmare i fan delle MMA e degli sport di combattimento in generale. E lo farà grazie alle novità introdotte sul piano del gameplay e a un comparto tecnico sostanzialmente migliorato. Un potenziamento questo che dona spettacolarità ad ogni sequenza, ma che soprattutto si mette al servizio dell'esperienza e delle sue meccaniche attraverso un nuovo sistema di animazioni e ad una maggiore enfasi sul realismo. Voi cosa ne pensate? Dopo tre anni di attesa era questo ciò che vi aspettavate dal rientro in scena della serie? Ditaci la vostra nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdervi nessuna novità sulle produzioni a marchio Electronic Arts. Qui a fianco trovate ora alcuni suggerimenti interessanti. Alla prossima!